Beh, innanzitutto ho conosciuto tante persone che avevo visto soltanto nel gruppo e oggi me lo sono riuscita a conoscerle di persona. Ho conosciuto Patrizia, l'ho abbracciata, è stato bellissimo. Perché in pochi minuti impari a rilasciare sofferenze, emozioni negative, false credenze, insomma, puoi vivere davvero bene. Beh, la cosa più importante che ho raggiunto in questi due giorni sono state proprio delle intenzioni sul perché non riesco a fare alcune cose e quindi poi nei prossimi giorni, insomma, ci mediterò su ancora, però è stato questo, il grosso che ho ricevuto in questi giorni. Ciao Patrizia, grazie di tutto e grazie di avermi cambiata la vita. Ciao!